il museo d'arte sacra san martino di alzano lombardo nel prestigioso ambiente della terza sagrestia fino al 21 giugno è allestita la mostra palma un capolavoro ad alzano mostra incentrata sulla pala con il martirio di san pietro da verona vertice della produzione tarda del grande pittore rinascimentale bergamasco palma il vecchio per la durata dell'intero evento è visitabile anche la vicina chiesa di san pietro martire da cui proviene la tavola nel coro della chiesa nella monumentale ancona linea è stata posizionata una riproduzione a grandezza naturale per ricostruire l'originario contesto cinquecentesco studiato da pietro isabello la mostra a cura di riccardo panigada e silvio tomasini ha come unico sostenitore la fondazione credito bergamasco ed è aperta tutti i giorni dalle ore 14 e 30 alle 18 e venerdì anche dalle ore 20 e 30 alle 22 per gruppi sono possibili visite su prenotazioni in orari da concordare per informazioni www.museosanmartino.org www.museosanmartino.org